... Segretario, 284 milioni stanziati ma oggi i medici sono in piazza. Beh sì, insomma, perché l'ha detto lei, 284 milioni sono bruscolini di fronte alle criticità del Servizio Sanitario Nazionale. È chiaro che il primo motivo per cui noi oggi siamo in piazza, che è la drammatica cadenza di personale che c'è stata in questo anno, noi chiediamo un piano assunzionale straordinario perché in questo modo non si può più lavorare nei servizi. Il primo tema che noi dobbiamo affrontare anche come dirigenza medica e sanitaria è il disagio lavorativo e il disagio lavorativo è causato soprattutto la garanzia di personale, anche in termini di aggressioni. Cosa dovrebbero fare le istituzioni per farvi annullare lo sciopero del 9? Allora, prima di tutto dare la garanzia delle risorse per il rinnovo contrattuale con una decorrenza da gennaio 2018 come per tutti gli altri comparti del pubblico impiego, coperano la percentuale di aumento contrattuale del 3,48%. Dovrebbero avviare un piano assunzionale straordinario, ma non negli intenti, l'abbiamo letto tutti ieri nelle leggi finanziarie, agli intenti, ma gli intenti non sono finanziati. Hanno parlato di assunzioni, hanno parlato di borse per la specializzazione, addirittura qualcuno si è lasciato sfuggire di levare il numero chiuso per fare propaganda, ma poi si sono subito donati neri perché si sono resi conto che era un'autocolla. Insomma, questa è la finanziaria della propaganda, non è la finanziaria dei fatti. I servizi continuano ad essere mortificati. Noi revocheremo lo sciopero solo e esclusivamente quando saranno garantite le risorse per il contratto e per assumere e per allargare le borse di specializzazione.